A un anno dall'alluvione del 2 novembre 2023, il comune di Vaiano è alle prese con la messa in sicurezza del territorio e la sistemazione del reticolo idrografico. Alcuni interventi di somma urgenza sono stati compiuti, come lo sfalcio della vegetazione sulle sponde del Bisenzio e la ripulitura dei fossi, che un anno fa diventarono dei fiumi in piena, portando a valle massi ed enormi quantità di terra. Ma c'è ancora tanto da fare, come nella frazione dell'isola, dove sono evidenti i segni di quanto avvenuto 12 mesi fa, quando il rio La Nosa uscì dagli argini facendo non pochi danni. Cosa andrebbe fatto, secondo lei, per mettere in sicurezza la zona? Tanto levare tutta questa roba. Può affondare un altro po' La Nosa perché l'era più bassa, puoi rifare un po' questi muri. Le fogne le sono tappate, lì c'è un costo della fogna, tu guardi, è pieno di terra. Infatti una lì, quando piove forte, l'acqua la trova a sbocco dove andare, la torna fuori e si allaga tutto qui. Alla cartaia fa ancora paura il rio Castagnolo, corso d'acqua che scorre in prossimità di un abitato e delle fabbriche. Dopo le recenti e forti piogge, il torrente è nuovamente tracimato, trasportando a valle, terra e rifiuti. Anche qui i residenti chiedono opere urgenti di messa in sicurezza. Spostandosi a Vaiano, nel viale Rosselli, complesso è l'intervento sul rio Trescellere, corso d'acqua tombato negli anni 50 che esplose all'interno di una fabbrica dismessa e da lì si riversò lungo la strada allagando taverne e scantinati. Nel tratto di fronte alla sede della Misericordia, il fosso è stato parzialmente stombato e si sta lavorando ad una nuova sistemazione della tubazione per la regimazione delle acque. L'operazione è in corso e non mancano i disagi. La mia situazione è che io ho delle stanze sotto casa, sotto terra, e ci sono delle filtrazioni di questo tubo che ci sono tante rotture già fotografate con un drone dentro, già mandate in comune e questi iniziano per venire a tappare questi buchi dai quali fuoriesce l'acqua pusita di tutta la fognatura che arriva e passa a casa mia. Il Trescellere è uno dei fossi sotto, come dire, la lente di ingrandimento, è uno dei fossi che ha causato più problemi, essendo uno dei numerosi fossi tombati del comune di Vaiano. Qui stiamo intervenendo con fondi propri del comune, con risorse proprie, perché noi appena ci siamo insediati abbiamo cominciato a agire su due livelli, uno più di metodo e uno più operativo, organizzativo, naturalmente andando a incidere laddove abbiamo le competenze dirette e il comune, come tutti sanno, ha competenze dirette proprio sui fossi tombati. E un lavoro è stato fatto proprio su questo fosso, che è un lavoro di messa in sicurezza e di, come dire, regimazione del sistema fognario, slegandolo dal fosso, dandogli una propria autonomia e provvedendo anche alle allacci delle fognature private. In questo momento il comune di Vaiano ha le risorse per fare gli interventi che ci ha descritto fino adesso. Allora, gli interventi assolutamente no, perché tutti gli interventi che sono stati fatti in sommorgenza sono stati ovviamente ristorati, ora sono in fase di rendicontazione e si aspetta appunto di avere i soldi nelle casse del comune. Ma tutti gli altri interventi, le famose lettere D, che sono gli interventi di ricostruzione post-sommorgenza, sono tutti interventi da finanziare. Noi abbiamo un piano di interventi per 15 milioni di euro, il bilancio del comune di Vaiano è un bilancio annuale di circa 12-13 milioni di euro. Come comune avete una richiesta da fare alla Regione, al Governo? Al Governo chiediamo risorse, risorse e chiediamo, ma non solo per noi, noi chiediamo un piano nazionale di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico, perché questo è un Paese in dissesto idrogeologico. Alla Regione chiediamo pianificazione degli interventi, definizione condivisa delle priorità a uno stesso tavolo comuni e tutti gli enti competenti che hanno appunto competenze sul reticolo idrografico e quindi una destinazione delle risorse coerente con questa pianificazione, perché solo in questo modo possiamo andare a soddisfare quella esigenza di sicurezza che è dei territori e dei cittadini.